Nei mesi di settembre-ottobre, come ogni anno, si inizia a parlare di influenza per conoscere che stagione sarà, per sapere se ci sono dei nuovi virus, per decidere quando è il momento migliore per effettuare la vaccinazione. Quest'anno la presenza del coronavirus amplifica ovviamente l'attenzione alla stagione influenzale e rende anche necessario rispondere ad alcune domande e alcune perplessità che tutti noi ci poniamo. Per esempio, da un'indagine di Asso Salute emerge che il 33% degli italiani ha il timore di non riuscire a distinguere i sintomi del Covid da quelli dell'influenza ed è quindi incerto su come comportarsi. Proprio da questa domanda, da questa perplessità, vorrei iniziare la nostra conversazione con Fabrizio Pregliasco che è collegato con noi. Professore, buongiorno, grazie di essere con noi. È un piacere come sempre essere con voi, ormai è una tradizione annuale appunto dell'autunno. Quest'anno abbiamo qualche complicazione in più perché giustamente gli italiani hanno paura. Intanto vogliono sapere che tipo di stagione sarà, quindi che influenza ci aspetta, se i virus sono cambiati, se c'è qualcosa di nuovo e poi appunto, visto che i sintomi sappiamo sono abbastanza simili, come si potrà distinguerle? La seconda ondata di Covid è un'ipotesi teorica verso cui dobbiamo lavorare per prepararci a quella che sarà una convivenza, una presenza del virus. Sperabilmente solo con focolai che per ora stiamo controllando, ma credo che c'è una capacità continua dell'Italia di far fronte a queste emergenze. La stagione influenzale ci sarà per certo. Quest'anno sono cambiati un po' tutti i virus rispetto a quelli dell'anno scorso e quindi potenzialmente la stagione può essere rilevante in termini numerici ed essere simile a quella di due anni fa e anche a quella dell'anno scorso con dai 6 agli 8 milioni di casi. La speranza è che i provvedimenti contro il coronavirus, come è successo in Australia, abbiano un effetto anche di riduzione di queste forme influenzali dovute sia al virus influenzale o ai virus cugini, proprio perché di fatto sono le stesse in termini di prevenzione e di possibilità di riduzione della malattia. Quindi questo ci fa ben sperare. Giusta la preoccupazione purtroppo degli italiani di confondere queste manifestazioni tra loro, sicuramente sarà un impegno dei medici di famiglia, dei pediatri di libera scelta nel differenziarli. Di sicuramente sicuro, soprattutto nei bambini, se si tratta di una singola manifestazione, magari un po' di tosse, oppure un po' di febbricola, oppure di naso chiuso, senza altri aspetti più tipici delle forme esplicite di coronavirus, allora saranno sicuramente e con molta probabilità i virus simili influenzali. Ma sarà davvero una battaglia che si potrà in qualche modo combattere anche grazie a un incremento della vaccinazione che, come dicevamo negli scorsi anni ad oggi, per l'influenza vede solo un 50% degli ultra 65 anni coinvolti, di incrementare questo valore, soprattutto per chi teme e può subire gli effetti più pesanti della malattia influenzale. Perché ricordiamo, la vaccinazione antinfluenzale è necessaria perché questa patologia è rilevante di per sé, è una malattia a basso rischio specifico, ma anch'essa dà dei problemi di ospedalizzazione, di complicanze e di mortalità. Il Covid ci ha insegnato che dei virus possono fare anche peggio, perché il coronavirus è ancora peggiore. Quindi la vaccinazione quest'anno serve per toglierci di mezzo per quanto possibile l'influenza, per evitare le coinfezioni, perché abbiamo visto che diventa una patologia più rilevante avere contemporaneamente o a seguire influenza ai Covid e poi soprattutto, come si diceva, per la diagnosi differenziale rispetto al Covid, che è la parte che ci preoccupa di più quest'anno. Quando iniziare a farla? Già adesso forse siamo apparentemente ancora in estate, il clima è estremamente variabile, ma comunque tendenzialmente ancora caldo. L'inizio della stagione per la vaccinazione quando potrà essere il momento più adatto e quest'anno, oltre alle categorie che abbiamo sempre detto, può essere indicato anche per più persone? Quindi magari andare a individuare chi quest'anno ha un valore in più? Allora, la campagna vaccinale del Servizio Sanitario Nazionale inizierà da ottobre, vuole essere molto più ampia. Si pensa di eseguire la vaccinazione dai 60 anni in poi, proprio perché dai 60 ai 65 comunque si è già soggetti a rischio. Le varie regioni, su indicazione del Ministero, stanno suggerendo una vaccinazione generalizzata anche dei bambini sotto i sei anni di età, proprio perché anche essi sappiamo essere comunque diffusori dell'influenza e anche, seppur in minor misura, anche del coronavirus rispetto agli adulti. E quindi è senz'altro come dire, da ampliare anche alla popolazione generale. Quest'anno, temo, ci saranno delle difficoltà nell'approvvigionamento perché la quantità di vaccini prodotti è stata superiore rispetto al passato, però le richieste anche a livello mondiale stanno in qualche modo rendendo un po' più difficile l'approvvigionamento, non tanto al Servizio Sanitario Nazionale, ma all'acquisto diretto. Tant'è che in questo momento il Ministero, ordine dei farmacisti, stanno discutendo appunto di quella che sarà la quota disponibile per l'acquisto diretto. Diamo anche un po' un perimetro di quelli che sono i comportamenti più corretti, a maggior ragione quest'anno, e anche i consigli. Sicuramente i farmaci di automedicazione da sempre, i sintomi di influenza o comunque virus parainfluenzali sono l'arma a cui ricorrono di più gli italiani e i comportamenti corretti, l'abbiamo detto molte volte, quest'anno forse anche di più magari. Come sempre, anche lo scorso anno e gli anni passati si diceva che bisogna stare a casa se si ha l'influenza o le forme simili influenzali e quest'anno lo sappiamo ancora più stringente se si ha il sospetto o comunque la malattia Covid-19. Quindi gli elementi di prevenzione li abbiamo ben attuati e li sappiamo tutti, però in quest'ultimo periodo ci siamo un po' dimenticati nella speranza che il problema coronavirus fosse ormai alle spalle, invece durante l'estate la situazione ha continuato a essere comunque non preoccupante, ma diciamo in qualche modo ancora un virus presente e l'autunno-inverno sappiamo che proprio per gli sbalzi termici, per il fatto di stare più a casa, in luoghi chiusi, ma anche per la copresenza dell'influenza che nasconderà il Covid-19 ci apprestiamo ad avere una situazione più pesante e più grave. Io sono dell'idea di un buon senso, perché sono ottimista rispetto al futuro, però bisogna essere prudenti, bisogna essere sereni e continuare a vivere e lavorare e non essere ipocondriaci, ma sicuramente in qualche modo vigili. In questo senso quindi a tutto quello che abbiamo ben imparato, distanze di pinto, utilizzo della mascherina e lavaggio delle mani. Elemento importante, perché il Dipartimento di Prevenzione delle ASL stanno lavorando alla grande per individuare questi focolai che ci saranno, susseguiranno, diventeranno ancora più frequenti, però noi non possiamo essere chi sgambetta queste persone e che in qualche modo impedisce un'organizzazione. Per evitare questo, ovviamente, il buon senso e l'adozione sistematica di queste misure preventive. Rimedi, dicevamo sicuramente, farmaci di automedicazione. Ovviamente, ricordiamolo quanto gli antibiotici, a cui purtroppo molte persone ricorrono, siano invece da evitare e comunque ecco l'importanza della gestione, quali farmaci da banco, come comportarsi. È corretto quanto sta dicendo, no antibiotico in primo approccio, consulto con il medico quest'anno molto rilevante e l'utilizzo, come sempre, in prima istanza dell'automedicazione che deve essere responsabile. Uso di farmaci sintomatici per attenuare i sintomi, seguire l'andamento della malattia e quindi non avere quegli effetti collaterali che anche questi farmaci hanno, ma soprattutto gestire l'andamento e l'evoluzione della malattia senza zerare i sintomi e quindi poter valutare come questi in qualche modo si evolvono ed eventualmente si evidenziano come malattie con. Tra l'altro, anche per il Covid, l'approccio iniziale è quello del sostanzialmente uso di farmaci di automedicazione, salvo poi indicazioni più specifiche nei casi più impegnativi e che richiedono ricordo. Abbiamo parlato di vaccino prima, non posso non chiudere parlando un accenno a quello che è invece la possibilità del vaccino per il coronavirus. Moltissimi candidati vaccini, moltissime sperimentazioni, qualcuno più avanti, qualcuno più promettente. Un quadro realistico di quelle che sono le attese? Moltissimi studi, più di 200 progetti, alcuni verso la fine della cosiddetta fase 3, quella di individuazione dell'efficacia e della sicurezza sul campo. Io credo, spero, che si arrivi alla definizione di un vaccino perché non è ancora certo che questa malattia possa avere un vaccino e quindi un'efficacia duratura, comunque temporanea, parziale, verso questi virus. Quindi dobbiamo ancora averne questa contezza, ma almeno dai dati che si hanno sembra che ciò sia possibile. È chiaro che dipenderà dai tempi di valutazione, ovviamente abbreviati rispetto alla norma, si dice che entro anno dei vaccini, uno o più, saranno disponibili o meglio registrati, ma credo che per l'industrializzazione, per l'effettiva distribuzione e quindi la disponibilità per ognuno di noi si debba aspettare almeno dopo il primo semestre del prossimo anno. Quindi dobbiamo in questo periodo continuare soprattutto con la prevenzione, il buon senso e un'attenzione. Rimango ottimista verso il futuro, ma prudente perché dobbiamo convivere con questo virus, sereno perché dobbiamo continuare a vivere ed evitare per quanto possibile ridurre gli effetti negativi di questo triste lockdown e di questa pandemia, ma vigili per poter essere pronti a eventuali recrudescenze della diffusione del virus. Sempre dall'indagine di Asso Salute emerge che quest'anno oltre il 34% degli italiani al primo sintomo, diciamo un mal di gola, una tosse, si rivolgerà al proprio medico di famiglia, rispetto invece solo al 12% che dichiarava nel 2019 di averlo fatto. Quindi sicuramente il ruolo del medico di medicina generale rimane, è sempre stato, ma ancora di più è fondamentale ed ecco per questo abbiamo in collegamento Claudio Criccelli, Presidente Simge, che saluto e che ringrazio. E allora quest'anno siete ancora più in prima linea? Sì, il dato è corretto e noi crediamo che aumenterà ancora di più. Oggi è chiaro che anche sintomi molto lievi, che una volta venivano, direi, non dico trascurati, ma insomma considerati il giusto, saranno sottoposti a quello che noi chiamiamo il triage della medicina generale. Da febbraio abbiamo lanciato questo sistema che al telefono valuta i sintomi che ci riferiscono i pazienti e li incasella dando una certa risposta telefonica. Quindi noi riteniamo, anzi stiamo dando indicazioni per cui qualunque sintomo sospetto venga rilevato dai nostri concittadini, deve essere perlomeno segnalato al proprio medico curante. L'importanza anche di un nuovo approccio, perché appunto stavi accennando alla possibilità di un contatto telefonico, per esempio la vaccinazione che un tempo si andava a fare, in pochi minuti si svolgeva il tutto, oggi c'è una procedura diversa, quindi cambia un po' anche il rapporto medico-paziente. Eh sì, la vaccinazione diventa più complessa, abbiamo stimato un aumento di tempo soltanto per la somministrazione pari a 5 o 6 volte quello degli anni passati e anche il luogo in cui avviene la vaccinazione non potrà più essere quello solito, gli studi non sono stati pensati per un accesso lento e continuo. In molte regioni stiamo cercando, in quasi tutte le regioni, dei luoghi alternativi in cui i medici si possano recare ad effettuare la vaccinazione, luoghi ampi, spazi ampi in cui ci possa essere un grande distanziamento in cui le persone non affollino questi ambienti e che vanno da strutture create ex novo a strutture già esistenti, palestre scolastiche, oratori delle parrocchie, cinema. Ecco, stiamo cercando di tutto, a cominciare dal Veneto che è stata la prima regione a farlo, ma si sta estendendo in tutte le regioni. I medici, per esempio i miei medici di Firenze, hanno contattato le parrocchie. Come società italiana di medicina generale vi siete molto spesi in questi mesi anche per dare consigli, un va-de-me, anche per il rientro a scuola, quindi la possibilità anche di interagire con i cittadini dando quelli che sono un decalogo di comportamenti. Quali sono, nel caso dell'influenza, quello che consigliate di fare? Oggi paradossalmente il suggerimento primario che io darei è di stare a casa, proteggere se stessi e proteggere gli altri. Soprattutto proteggere gli altri qualunque sia la malattia che poi verrà confermata, che sia di origine influenzale, raffreddore, non influenzale o Covid, usando intensivamente la mascherina, perché la mascherina è una grande protezione nei confronti degli altri, più che nei confronti di noi stessi dagli altri. C'è una grande protezione attiva, ferma i virus che possono uscire dalle vie aeree delle persone che sono contagiate. E quindi noi ci aspettiamo, poi naturalmente il contatto col medico, la misura della temperatura, stiamo invitando tutti a acquistare dei termometri decenti, insomma, dei termometri elettronici che costano pochissimi euro. Abbiamo detto per esempio che sì, le scuole misureranno la temperatura, ma sarebbe una buona regola quella di provarle in caso di dubbio ai propri figli, agli studenti a casa, perché se scopriamo che uno ha un po' di temperatura non esce da casa, quindi evitiamo che salga su un autobus che acceda a scuola dove sì poi gli verrà. Sapete, se a scuola viene scoperta la temperatura, il genitore deve andare a riprendersi il figlio e riportarsela a casa. Quindi tutte queste indicazioni fanno parte, compreso poi l'indicazione assoluta a vaccinarsi, l'indicazione assoluta a rispettare l'isolamento domiciliare. Questo è veramente molto importante. L'isolamento domiciliare si estende non soltanto ai casi di Covid sospetto, ma anche ai casi di qualunque malattie respiratorie acuta ci possa arrivare. E poi c'è un altro consiglio che io darei. Fate attenzione, la diffusione delle malattie respiratorie è sempre avvenuta attraverso gli ambienti pubblici affollati, cinema, uffici pubblici, supermercati, eccetera. Fare attenzione ai comportamenti in questi ambienti. Diventa ancora più importante, soprattutto da parte di quelle persone le più pericolose, che contraggono il virus e non sono sintomatici, cioè proprio i giovani. Quindi noi stiamo facendo un appello particolare ai giovani, i quali sono portatori del virus senza sintomi. Quindi abbiamo anche difficoltà di individuare. Torniamo alla vaccinazione. Si è parlato negli ultimi anni sempre più di appropriatezza vaccinale, anche nel caso dell'influenza, quindi è importante che ogni persona riceva il vaccino più idoneo. Sì, ce ne sono numerosi vaccini di vario tipo. Tutti sanno che esiste un trivalente, quindi tre virus quadrivalente, quattro antigeni virali, ma anche i quadrivalenti ormai sono un'intera famiglia. Ci sono i quadrivalenti adiuvati, che servono soprattutto a quelle persone che hanno un sistema immunitario più debole, come gli anziani. Ci sono i quadrivalenti ad alta intensità, che hanno molto ricchi di carica virale, che sono sempre indicati per le persone più anziane. Poi ci sono i vaccini, per esempio, da somministrare ai bambini. Ci sono dei vaccini che i bambini ricevono per spray, per non fare la fultura, eccetera. Quindi c'è tutta una gamma di vaccini, ciascuno dei quali trova delle indicazioni particolari. Occorre dire che la disponibilità del vaccino è condizionata dalla regione nella quale ci troviamo, perché ogni regione spesso fa delegare soltanto per alcuni tipi di vaccino, quindi non è detto che in tutte le regioni si trovino tutti i vaccini. Però il medico sa perfettamente a chi sono rivolti e su quale tipo di persona utilizzare ciascuna tipologia di vaccino. E a proposito di vaccini, accenniamo anche al vaccino anti-plomococcico, che è responsabile, lo sappiamo, di polmonite batteriche, che non soltanto per fare, diciamo, anche una differenzazione del Covid, ma anche proprio per evitare tantissime polmonite che sono, sappiamo, responsabili anche di eventi molto gravi. Sì, l'obiettivo primario è quello di non prendersi l'influenza, di non prendersi la polmonite. Poi, diciamo, evitare la confusione col Covid è un altro vantaggio. Il vaccino anti-plomococcico viene rimborsato gratuitamente dal Servizio Sanitario Nazionale. Aiuta a 65 anni, ma ho l'impressione che anche quest'anno verrà abbassata la soglia, di somministrazione. Evita le polmonite pneumococciche, che sono le polmonite più frequenti in stagione invernale, soprattutto negli anziani. E questo, immaginatevi se oggi, in cui la diagnosi di polmonite terrorizza le persone molto più della tosse e della febbre, questo diventa assolutamente fondamentale. Poi, ha il vantaggio, non si somministra tutti gli anni, come il vaccino anti-plomococcico doministra una volta, una volta tanto, una tanto. Quindi, farselo una volta, uno si leva il pensiero. Quindi, mi raccomando, chiedete il vaccino anti-plomococcico. In conclusione, torniamo all'influenza proprio. Rispetto agli scorsi anni, abbiamo visto nell'emisfera australe c'è stato un trend di diminuzione dei casi, probabilmente anche legato alle misure di contenimento del Covid che ci hanno insegnato un po' alcuni buoni comportamenti. Vi aspettate che, appunto, anche qui l'influenza possa comunque avere un andamento meno serio degli anni scorsi? Sicuramente il numero di casi di influenza è influenzato da due fattori primari. Il primo è il numero dei vaccinati, che è un elemento. L'anno scorso abbiamo avuto 8 milioni di casi di influenza a fronte di circa 11 milioni di vaccini somministrati. Se ne somministriamo 6 milioni in più ci aspettiamo più o meno di avere molti milioni di casi in meno. Ma il secondo aspetto è che l'influenza dipende da quanto si porta in giro il virus. I virus non hanno gambe, non camminano con proprie gambe, le portano in giro gli esseri umani, gli esseri viventi. Allora, se gli esseri viventi si distanziano, stanno lontani, escono meno di casa, vi ricordate il famoso, sì ma tanto io ho un po' di influenza vado a lavorare lo stesso. No, oggi se uno ha un po' di influenza sta a casa e sta a casa e quindi è chiaro che diminuiamo la frequenza della trasmissione del virus alla popolazione generale. Quindi noi ci aspettiamo che abbia un effetto positivo l'uso di dispositivi e le protezioni e l'attenzione alle norme di trasmissione ed igieniche anche nei confronti dell'influenza di tutte le malattie respiratorie. E quindi speriamo che il Covid ci abbia insegnato un po' che la responsabilità e il senso di attenzione collettiva possa essere un esempio, un modello non solo per il coronavirus ma per tutte quelle che sono le malattie a trasmissione comunque respiratorie. Assolutamente. Grazie sempre, buon lavoro perché il lavoro da adesso in poi sarà come sempre tanto ma in questa fase sicuramente di più. Grazie. Grazie a te e a tutti i tuoi spettatori.